3-3-6, terza puntata di 3 minuti il 6 gennaio. Parliamo del Regno Unito, anzi no, della Gran Bretagna, anzi no, dell'Inghilterra. Ci sono tre cose che, tre termini che in italiano vengono spesso confusi, vengono mischiati. Questo un po' mi dà fastidio perché è un'imprecisione. Queste sono sicura che ce l'hanno insegnati a scuola. E ve ne parlo perché ieri una mia amica Manu Manuska, Manuela, verso le sei di pomeriggio, quindi in prima serata, mi ha mandato un messaggio dicendo ah Cristina c'è questa cosa qua, un lavoro che devi assolutamente fare la domanda, un online tutor per Creative Digital Storytelling in un'università a Falmouth, England, United Kingdom. Ora apro parentesi, non sto cercando lavoro, non un lavoro di questo tipo, però effettivamente quando ho letto la job description era abbastanza interessante, per cui mi sono messa, ho mollato la preparazione della cena, tra l'altro ieri avevo in mente di preparare un piatto che ho trovato, ho cercato dopo averlo visto preparare nella serie anime che seguo, Food Wars, una cosa complicatissima, non sono riuscita a trovare il Dragon Cell, vabbè ve lo racconto in un altro momento, quando finalmente riuscirò a farlo. Quindi ho mollato tutto e mi sono messa a fare questa application, application che di solito quando le facevo, quando abitavo in Australia, impiegavo settimane a preparare un'application fatta bene, perché c'è tutto un modo in cui bisogna scriverla, bla bla bla, invece questa l'ho presa, boom, giusto per mandarla, perché mi sembrava una cosa divertente, però l'ho fatta con i piedi, proprio malissimo, infatti non l'ho nemmeno riletta perché mi vergognerei di come l'ho fatta. E mentre la preparavo, una delle domande che mi si faceva è se avessi il permesso per lavorare appunto presso quell'università del Regno Unito. Sinceramente non lo so, perché dopo Brexit è un po' come l'orario delle zone rosse, gialle, boh, non lo so se posso lavorare. Io ho due cittadinanze, una italiana e una australiana, forse potrei lavorarci con quella australiana, boh, magari anche con quella italiana, però, diciamo, non è importante, poi si tratta comunque di un lavoro online, online tutor, e questo è l'unico motivo per cui ho comunque fatto la domanda perché voglia di andarmene dalla Sardegna a zero. Oddio, sono arrivata quasi già a tre minuti, devo sbrigarmi. Allora, sì, volevo dire la differenza tra Regno Unito, Gran Bretagna e Inghilterra. Allora, il Regno Unito è l'intera isola della Gran Bretagna, è la parte nord dell'Irlana, vabbè, ormai non ce la faccio più a dirvelo, ve lo dico la prossima volta.